Il Dio Onipotente bendica voi tutti anche questa targa che ci ricorda una parte importante, una tappa importante della nostra storia, della storia della Guardia di Finanza e di tutta la Repubblica Italiana. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ami. Buona giornata a tutti e grazie dell'Unito.